Mentre si parte con la terza dose, l'Irpini arriva all'82% della popolazione che ha ricevuto la prima somministrazione. È la fascia di età 70-79, quella in cui risultano vaccinate più persone, il 92%. Quasi 34.900 con la prima dose, più di 33.200 con la seconda. Segue per percentuale più alta la fascia 80-89 e gli over 90. Se gli over 70 fino ad ora sono risultati essere più virtuosi, lo stesso non si può dire per i trentenni. La percentuale di vaccinati in questo caso si ferma a quota 72%. Meglio i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Su 31.000, a 24.000 è stata inoculata la prima dose e a 18.800 anche la seconda. 34.000 i giovani tra i 20 e i 29 anni vaccinati con una somministrazione su una popolazione di quasi 45.800 persone. Per la fascia 40-49 la percentuale relativa sempre alle prime dosi arriva al 78%, 84% per gli over 50, 89% per gli over 60. Fino ad ora sono quasi 577.000 le dosi somministrate in Irpinia. Intanto ieri sono state 481 le persone vaccinate in provincia di Avellino. Oggi si parte con una nuova fase di questa campagna vaccinale, le terze dosi per le persone fragili. In campo, ASRA di Avellino e azienda ospedaliera Moscati, che in linea con le direttive regionali e nazionali, aprono le porte alle persone trapiantate e immunocompromesse. Individuati da una circolare del Ministero, da oggi possono presentarsi modalità open day presso le sedi dell'azienda sanitaria locale. Il Moscati ha chiamato a parte i suoi 2.500 pazienti fragili, oggi previste già una cinquantina di somministrazioni. La prossima settimana, all'azienda ospedaliera, anche le vaccinazioni per le donne incinte o che hanno partorito da poco.